L'urlo della colla ci fa capire che dovremmo essere ci dovremmo vedere L'umidicatore è un microfono E un bel sorriso Alto e imponente lo è Alto e imponente è la scelta che ha fatto di chiamarsi Francesco Scelta che nessuno finora aveva avuto il coraggio di fare Ecco le bandiere argentine Era previsto questo suono? Sì, sì, sì La veste gli sta a perfezione, evidentemente rientrava nei canoni di uno dei tre Ci sembra un po' serio, ma forse è proprio lui così Non serio, è lui così Era trattenendo anche la commozione La commozione Emozione Emozione La battaglia Emozione 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 Fratelli e Sorelle Buonasera Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma, sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità di Occesana di Roma al suo vescovo, grazie. E prima di tutto, prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo in merito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra, dacci oggi il nostro pane, rimetti a noi i nostri meriti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, che non ci indurra in tentazione. Ma liberaci dal mare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con ti, benedetta e benedetta e benedetta il frutto del tuo segno a Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi cominciamo e chi mi aiuterà è il mio Cardenale Vicario, qui presente, sia fruttoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. Adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. facciamo facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Vescovo benedica il preghiera di voi su di me. Vescovo benedica il preghiera di voi su di me. Il Santo Padre, Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma salita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Adesso vi darò le benedizioni a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Sancti Apostolis Petrus e Paulus, De quorum potestate e d'autoritate confidimus, ipse intercedan per nobis ad dominum. Amen. Crecivus et meritis Beate Maria sempre Virginis, Beate Micaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, e Santorum Apostolorum Peti e Pauli et Omnium Santorum. Miseratus Vestia Omnipotenteus, et dimissi Omnibus Pecatius Vestis, perducat vos, Iesus Christus, al dita in eterna. Amen. Indulgenciam, ad solucionem, ad remissionem Omnium Pecatorum Vestorum, Spasium Vere, Fructuose, e Penitensi, cor sempre Penitens, et emendazione in vita e grazia e consolazione, Sancti Spiritus. Et finale in perseverancia, in bonis operibus trium ad bovis, Omnipotens e Misericors Dominus. Amen. Et benediccio Dei Omnipotentes, Pateris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super Vos et maniat sempre. Amen. Beh, intanto godiamoci ancora questi istanti di saluto. Vedete già dalla croce che il nuovo Papa porta, che era quella che aveva portato quando è entrato in conclave, non è certo una croce di quelle preziose e gemmate. Vediamo se aggiunge altre parole. Grazie.